ciao a tutti e bentornati nel mio canale o benvenuti se siete nuovi iscritti come avete visto da copertina oggi parleremo di lui sandro l'interista per caso a sandro a distanza di poco tempo sono stati chiusi due canali e segnalati vari video e ieri sandro dal suo nuovo canale ha caricato un video un video particolare con un messaggio ben definito il titolo del video è tregua nel corso del video stesso sandro stila proprio una lista di persone a cui indirizza questo messaggio ora io non compaio nella lista stilata da sandro nel suo video di ieri però siccome in tempi abbastanza recenti un qualcosina a che dire con sandro ce l'ho avuta intendo lo stesso dare la mia opinione in merito a questa faccenda dato che per sommi capi mi ha toccato da vicino partendo dal presupposto che io non sono una persona che trascina queste situazioni di dissenso tanto per le lunghe anche perché sinceramente non ho né tempo né voglia di stare dietro a questo tipo di cose ci ho messo un punto nel momento in cui ho caricato un video pubblico nel mio canale dove ho spiegato come era andata la faccenda ho cercato di chiarire determinati punti dopodiché per me la cosa era ampiamente archiviata e lo conferma il fatto che dopo il suddetto video di state le novela io comunque non ne ho più parlato ma torniamo a sandro e al video che ha caricato ieri in cui continua dicendo che la sua intenzione da oggi in avanti è quella di cambiare percorso esplorare nuove strade e coltivare nuove amicizie giusto a conferma di non voler ritornare sui suoi passi decide altresì di bannare le persone citate da lui stesso nella lista chiede insomma in via definitiva che non si parli più di lui e lui farà altrettanto con le persone da lui citate ora cosa penso io penso che sandro come gli altri abbia tutto il diritto di aprire un canale da cui e con cui condividere le cose che a lui piacciono l'unica cosa che potrei aggiungere no per integrare un po quello che il mio pensiero sulla faccenda è che magari sandro fai lezione dagli errori commessi per poi portarti in questo nuovo inizio questa nuova partenza solamente il buono e su quello costruire un nuovo percorso più sano più equilibrato e soprattutto con meno dissing se possibile anche perché se la tua intenzione come spesso hai detto durante le tue live è quella di lasciare un tuo segno tangibile qui su youtube allora fai che sia un segno positivo questo è un consiglio che a santo darti io ora non lo so fino a che punto lo accoglierai però comunque mi sentivo di espormi in questo senso per quanto riguarda invece il discorso amicizie credo che troppo spesso accade che ci si lega con delle persone ma quelli che ne vengono fuori sono dei rapporti malati rapporti malati che non favoriscono assolutamente una crescita personale questo a lunga andare risulta deleterio perché comunque una persona inizia a sminuirsi sottovalutarsi e non si rende conto di quelle che sono le proprie capacità tutto questo non può essere assolutamente catalogato come sinonimo di amicizia perché comunque l'amicizia deve essere un qualcosa che deve apportare un beneficio a quella che è la tua vita attuale piuttosto che ma comunque ritorniamo sempre al video da te caricato ieri credo che come proposito il tuo di intraprendere il nuovo cammino di fare nuove amicizie magari cambiare un po quello che è stato finora il tuo percorso su youtube sia un discorso molto valido quindi per quanto mi riguarda io ti auguro che tu riesca in questo tuo nuovo percorso che intendi intraprendere da parte mia nei suoi confronti non c'è alcun rancore quindi per andare a concludere il discorso sandro io ti faccio i miei più sinceri auguri per questo nuovo canale e la speranza che tu mantenga le promesse che pubblicamente hai fatto mediante il tuo video di ieri restate rendere questo tuo nuovo canale un qualcosa degno di essere ricordato in positivo ovviamente quindi ciao a sandro e ciao a voi che avete avuto la pazienza di ascoltare questo pur breve blog quindi vi do appuntamento al prossimo contenuto nel frattempo vi auguro buona continuazione di giornata bacio bacio da gossip grazie a tutti grazie a tutti Grazie.